Ciao! Oggi, solo per voi, una delle sorprese più grandi di questo 2021. Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, un libro sulla Prima Guerra Mondiale, che in realtà è un diario sulla Prima Guerra Mondiale che ho scoperto per caso sul mio libro di storia. Leggete sempre i testi a lato nel libro di storia, perché potrebbero contenere delle piccole perle. Viviamo la Prima Guerra Mondiale, capiamo la Prima Guerra Mondiale e la guerra in trincea, che forse nei libri non si capisce mai abbastanza. I diari servono a questo, servono per umanizzare, con un contesto sociale, con un pezzo di storia, con degli uomini, con dei poeti, con dei miti, che forse non riusciremo mai a capire fino in fondo, fin quando non leggeremo lettere, diari. Emilio Lussu fa proprio questo, lui vive la guerra, la vive in modo un po' diverso, vive la guerra di trincea e quindi ce la può raccontare, ce la racconta magistralmente. A domani!